Ben trovati all'appuntamento con l'informazione, l'apertura odierna la dedichiamo all'ambiente ma soprattutto allo sviluppo, si è parlato infatti di sera di porto turistico ma anche di riserve, l'occasione era data dall'assemblea di SOS Siracusa, quindi un quacervo di ambientalisti che hanno parlato di porto turistico appunto, un sostanziale sì al progetto riveduto di Marina di Siracusa, sentiamo. Gli ambientalisti di SOS Siracusa si sono riuniti in assemblea per trattare alcuni punti focali dello sviluppo economico ma anche per la salvaguardia dell'ambiente. È stata fatta una relazione relativamente al progetto del nuovo porto turistico, lo staff di SOS Siracusa ha avuto un incontro con il presidente della società marina di Siracusa Vittorio Pianese, il quale ha illustrato il progetto preliminare del porto cosiddetto Spero da realizzare all'interno del porto grande di Siracusa. Rispetto all'idea progettuale, la società ha eliminato l'ipotesi di realizzare un'isola artificiale all'interno del porto grande e dell'infrastruttura. Questa decisione, così come riportata nei grafici ripresentati in conferenza dei servizi, viene considerata positiva ai fini dell'impatto ambientale del porto turistico. Gli ambientalisti, insomma, credono che sia un progetto adesso fattibile. Altro punto all'ordine del giorno, la questione della riserva naturale orientata Capo Muro di Porco e Penisola Maddalena. È stato valutato l'iter di istituzione della riserva e sono state programmate delle iniziative. Per seguire da vicino la vicenda, SOS Siracusa ha intenzione di istituire una commissione per la valutazione giuridica dei passaggi necessari da compiere e per formulare proposte costruttive insieme con l'amministrazione comunale, in merito agli aspetti costituzionali che il caso contempla. Gli albergatori siracusani esultano, ma fino a un certo punto, perché quest'anno è stata una stagione davvero da record per le presenze turistiche, ma anche e soprattutto per la permanenza dei turisti a Siracusa, quasi tre notti in media. Però ci sono delle magagne, ancora c'è tanto a lavorare come sostengono, ma sentiamo meglio nel servizio. I dati statistici elaborati dal centro studi di noi albergatori siracusa al 30 settembre di quest'anno evidenziano un'efficace crescita delle presenze alberghiere nella sosta città di oltre il 3,5% in più rispetto allo scorso anno. Il dato positivo, dovuto in buona parte al maggior aumento dei soggiorni degli stranieri che sfiora, più 6%, rincuora quindi conforto agli albergatori siracusani. Tuttavia, dalle analisi scaturite, non bisogna leggere la crescita con eccessivo trionfalismo, almeno per due ordini di ragione, spiega il presidente degli albergatori Giuseppe Rosano. In primis, quest'anno ha influito il clima assai favorevole, mentre in tutto lo stivale si registravano copiose piogge e basse temperature. La carta sinottica della Sicilia ha sempre riportato un sole splendente, particolarmente sul Siracusa. In seconda battuta va ricordato che le turbulenze socio-economiche e politiche esistenti in Nord Africa e Medio Oriente hanno indirizzato buona parte degli stranieri a scegliere alla Sicilia quale meteo di vacanze e quindi anche e principalmente la nostra città dove si è registrato un accresciuto aumento. Indebolita dell'1,5% è stata purtroppo la domanda dei soggiorni dei nostri connazionali che riflette le strategie di contenimento delle spese più voluttuarie da parte delle famiglie italiane a fronte del forte deterioramento del potere d'acquisto. La maggioranza dei turisti in soggiorno ha riportato un eccellente ricordo della nostra città, tanto per l'ottima accoglienza ricevuta presso gli alberghi, i ristoranti, gli esercizi commerciali, tanto per i servizi che l'amministrazione comunale ha riservato, quali l'immagine di una città pulita, il reprisso del bike sharing, le navette elettriche, l'illuminazione al parcheggio Sant'Antonio. Nella sostanza una buona semina che ha già terminato i suoi frutti con la crescita della permanenza media dei turisti a 2,9 notti la durata del soggiorno e il presupposto necessario per creare nuovi posti di lavoro nel settore del turismo, aumentare il PIL e fare germogliare un'economia turistica ancora tutta da edificare. Purtroppo, dice ancora Rosano, da metà ottobre fino alla fine di marzo del prossimo anno, gli alberghi siracusani saranno in letargo e con essi anche il mercato turistico. All'interno della situazione albergatori si stanno già mettendo in atto azioni mirate per rafforzare per il prossimo anno un maggior numero di presenze rispetto a quelle consolidate del 2014. Consiglieri comunali, nuovamente in aula lunedì prossimo a partire dalle ore 19 per discutere prevalentemente di regolamenti, tra cui anche quello che introduce la Commissione sulle menze scolastiche. La seduta si aprirà con l'approvazione di una serie di verbali di riunioni svolte nel corso dell'anno, quelle del 3 febbraio e tutte quelle di luglio e agosto fino al 2 settembre. Il primo regolamento da discutere è quello di polizia mortuaria per il quale l'amministrazione ha previsto di introdurre la possibilità di realizzare dei loculi aggiuntivi all'interno delle sepolture private. Inoltre sono state previste sanzioni per lavori realizzati in maniera difforme ai progetti. Sarà poi la volta del regolamento sui taxi e i noleggi con conducente per renderlo più aderente alle normative in materia di prevenzione, incendi e primo soccorso. Quarto punto all'ordine del giorno è il regolamento che introduce la Commissione sulle menze scolastiche che sarà aperta ai genitori e si occuperà non solo della qualità dei cibi ma anche dell'educazione alimentare e di favorire la convivialità. Ultimo argomento è una modifica al regolamento per la gestione degli asili nido che risale al 1980 per adeguarlo ai contenuti del nuovo bando pubblicato nelle scorse settimane. Rimanevo sempre in tema di politica ma anche di tasse. Soltanto il 40% dei contribuenti siracusani ha pagato la tassa sui servizi o comunque la tassa sui rifiuti. È su queste cifre che deve misurarsi il nuovo bilancio del Comune di Siracusa, bilancio che a detta dell'opposizione sarebbe a questo punto falsato. Sentiamo perché. Oltre la metà dei contribuenti siracusani non ha pagato le tasse locali. Un dato che conferma l'andamento dello scorso anno. I dati relativi alla TARES del 2013 sono significativi. A fronte di un'entrata prevista di più di 30 milioni di euro, gli incassi effettivi sono stati di 20 milioni e 500 mila euro. Quasi il 40% non ha quindi pagato la tassa dei rifiuti più care d'Italia. Con quale coraggio, si chiede il consigliere Salvo Sorbello, si possa ora prevedere nel bilancio 2014 un incasso di 27 milioni e 500 mila euro di gran lunga superiore quindi a quanto è versato la Siracusa nel 2013. Chi non ha pagato nel 2013 potrà ora pagare, sia lo scorso anno che quello dell'anno in corso. Il Comune di Salvo Sorbello dovrà essere gestito come una famiglia a corte e siamo quindi curiosi di sapere con quale motivazione il Revisore dei Conti daranno il via libera a un bilancio che prevede entrate quanto meno incerte. Corte dei Conti che ancora non si è mossa in tal senso. Quando lo scorso anno ci siamo battuti con tutte le forze per evitare che le famiglie e le imprese siracusane subissero una vera e propria stangata con la tassa per l'arcorte dei fiuti, conclude Sorbello. Lo abbiamo fatto perché eravamo consapevoli che avveniva preteso un sacrificio e che non poteva essere sostenuto. Notizia di cronaca, i poliziotti sono intervenuti in corso Matteotti. Ieri sera a Siracusa intorno alle 22 dove un uomo e una donna chiedevano insistentemente denaro ai passanti per un'associazione no profit senza alcuna autorizzazione e senza poter dimostrare la destinazione dei ricavati della raccolta. Sono stati identificati entrambi e sono entrambi siracusani e sono stati denunciati per disturbo alle persone, abuso della credibilità popolare e anche la truffa. Andiamo a Lentini dove nonostante i numerosi appelli lanciati dagli automobilisti e dai residenti è ancora impraticabile la strada provinciale Lentini-Agnone-Bagni all'altezza del ponte sulla ferrovia. Sentiamo il nostro corrispondente La Fata. Nonostante le numerose segnalazioni fatte dagli automobilisti alla provincia regionale di Siracusa è ancora impraticabile la strada provinciale 94 che collega Lentini alla zona balneare di Agnone-Bagni. Il pericolo più incompente si trova all'altezza delle ponte della stazione ferroviaria di Agnone dove il mando stradale è costellato da vestose buche che rappresentano un serio pericolo per gli automobilisti e soprattutto per gli scuderisti. Gli incidenti stradali che si verificano in questo tratto stradale infatti non si contano più. Il fatto ancora più grave è che gli appelli fatti dagli automobilisti anche attraverso gli oggini di stampa non vengono neanche minimamente recepiti dalla provincia regionale di Siracusa per cui si prospetta una stagione estiva all'insegna del pericolo costante per chi è costretto a percorrere questa importante arteria che collega Lentini, Carlentini e Francofonte con la zona balneare che va da Castelluccio alle San Leonardo. Con questo servizio si chiude la prima parte del telegiornale, state con noi c'è la pubblicità, la seconda parte con altre notizie e servizi di cui darvi conto. Circo Coliseum presenta il grande circo di Sandra Orfei a Siracusa fino al 20 ottobre. Tutti i giorni due spettacoli alle 17.30 e alle 21.00. Spettacolari esibizioni e numerosi animali, coccodrilli, struzzi, cavalli, la tigra e il leone bianco e il cucciolo di giraffa. Circo Sandra Orfei, incontra da Targia a Siracusa fino al 20 ottobre. Allora telecamera riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella vero? E poi è bella anche dentro, ha stile e guarda che cromature. Cromata? Ma chi? La ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Oh, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché è una telecamera che parla? Non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris. Geniale come sempre. Trendi come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, con trada Targia, Siracusa. Autosport e anche Opel. Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta. Oggi da Scavolini Store Siracusa ti aspettiamo con un'imperdibile offerta. Acquista la tua cucina Scavolini. Noi ti regaliamo un frigorifero Samsung. Scavolini Store Siracusa. Viale Scala Greca 381. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta. Mozzarella Zappalà per 3, 1,59 euro. Succo di frutta Sant'Al, 1 litro, 1,09 euro. Caffè, lavazza, crema e gusto, 250 grammi per 3, 5,38 euro. Detersivo svelto, 3 flaconi, 3,25 euro. Detersivo pavimenti fabuloso, 1,19 euro. Carta igienica Scottex, 1,79 euro. Cerca il punto vendita più vicino a te. Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406-A, Siracusa, RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 65 06 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. Eccoci alla seconda parte del telegiornale. Sono trascorsi 71 anni dallo sbarco degli alleati in Sicilia e soprattutto nella provincia di Siracusa. E' uno sguardo attraverso il passato e soprattutto attraverso le monete dell'epoca, le ham lire, che sono state subito carta straccia. Ci spiega tutto l'ingegnere Leonardo Salvalaggio. Ecco ingegnere, la storia, lo sbarco e tutto il resto si fa anche attraverso le monete, la numismatica. Chi meglio di lei ha studiato questo periodo storico, quello insomma dello sbarco, con le ham lire, che insomma alla fine era una carta straccia o no? Ma è un periodo che è intrisa di leggenda. Come è intrisa di leggenda anche la storia delle ham lire. Le ham lire arrivarono con gli americani. In realtà gli alleati erano molto preoccupati quando decisero di sbarcare in Sicilia. Erano preoccupati per quanto i siciliani erano anche contenti. Nel senso che ora arrivano gli americani e gli inglesi e questi portano dollari e serline. Gli americani si chiesero sì, in un primo impatto potremmo farlo, però poi per gestire tutta questa situazione dovremmo mettere una moneta in circolazione. E si inventarono le ham lire, che erano pezzi di carta senza controvalore. Cioè questi biglietti furono imposti da un decreto di Alexander subito dopo lo sbarco e diventarono l'unica moneta circolante in Sicilia, visto che la lira, essendo moneta di un paese nemico, era illegale. Gli italiani pensavano che l'Africa fosse un loro territorio. Gli alleati non pensarono mai, nonostante quello che si disse in Sicilia, che la Sicilia diventasse il 48esimo Stato degli Stati Uniti d'America. Se lo inventò qualche siciliano indipendentista. Quindi quella è un po' la situazione. In realtà una cosa che io sapevo fino a un certo punto, ma che ho voluto approfondire durante questo studio, che le ham lire continuarono anche nel territorio italiano. Cioè, quando gli americani avanzarono nel sud Italia, portarono avanti le ham lire e fino all'armistizio, e anche dopo l'armistizio, continuarono a valere le ham lire. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di spettacoli. Esordio ieri sera per il Circo Sandra Orfei, incontrata a Tarja a Siracusa. Tante le attrazioni. Vediamole in questo servizio. Grande affluenza di pubblico ieri sera all'esordio del Circo Sandra Orfei a Siracusa. Uno spettacolo di grande attrazione, che ha coinvolto grandi e piccina, conferma della bravura degli artisti, della ricercatezza delle esibizioni e della cura degli animali. In oltre 15 anni di attività, il Circo Sandra Orfei ha registrato il tutto asaurito nelle sue tourne internazionali, toccando e lasciando il segno nel cuore ovunque. Uno spettacolo circense, capace di offrire qualcosa in più agli spettatori, con sorpresa e mozzafiato, sotto un tendone sfarzoso e rinnovato. A guidare il Circo di Famiglia, Carmen, Claudio e Franco Vassallo, insieme con Enzo Bisbini, erede di un'altra storica famiglia, che ha toccato l'apice del successo con il trio di clown musicali. Molto gradita al pubblico l'esibizione di un cucciolo giraffe, che a soli 16 mesi già misura 4 metri d'altezza. Grande attenzione hanno attirato anche coccodrilli, struzzi e cavalli, ma i veri mattatori sono stati la tigre e il leone bianco. Il Circo Sandra Orfei sarà a Siracusa in Contrada Targio fino al 20 ottobre prossimo. Vigile di campionato per il Siracusa, che come sapete mercoledì scorso ha espugnato Vittoria nella Coppa Italia. Adesso spera, con il reclamo avanzato dalla dirigenza, sulla posizione che era dubbia o quantomeno irregolare, di un calciatore della città di Vittoria. Spera di superare il turno senza disputare la partita di ritorno. Comunque il Siracusa ha vinto 3-2. Bene, una partita, quella di domani, molto importante perché si va in casa di una delle pretendenti al titolo e all'assalto in Serie D, lo sportsoccer Milazzo. Sentiamo meglio il servizio, soprattutto l'intervista con il tecnico Anastasi, che si è concesso ai nostri microfoni questa mattina. Insomma, si va a Milazzo dopo due belle prestazioni, quella contro la Cirreale e quella contro il città di Vittoria. Con quali aspettative? No, l'aspettativa è sempre quella di fare bene partite per partite. Adesso ci stiamo preparando e ci siamo preparati per la partita di Milazzo come ci siamo preparati per le due partite precedenti. Quindi l'auspicio è quello di rivedere la stessa cattiveria agonistica che abbiamo avuto in queste due partite. Ripeto, poi i valori aggiunti, mi riferisco ai vari Peppe Mascara e via dicendo, per non nominarli tutti quanti, voglio dire, sono valori aggiunti che dobbiamo mettere fuori al momento in cui per prima mettiamo le armi importanti. Non sono disponibili né Scarano, nemmeno Grasso? Ho già un'idea di formazione? No, l'idea di formazione sinceramente non ne ho. Scarano ha un problema, si è stato operato, ha delle verrughe sotto la pianta ai piedi, quindi è indisponibile per questo motivo. Grasso stiamo valutando un attimino il da farsi, ma penso che alla fine ce la potrebbe anche fare. Il Milazzo, più o meno gli stessi punti, anzi gli stessi punti dal Siracusa, ha fatto bene fino a questo momento, che squadra vi aspettate? No, il Milazzo è stato costruito, insieme a altre due o tre squadre, è stato costruito per vincere il campionato. Quindi andiamo lì con la consapevolezza di affrontare una delle migliori squadre del girone. Quindi si deve stare sempre attenti, ma siamo noi, allo stesso tempo, consapevoli della nostra forza. Voi comunque uno sguardo alla Coppa Italia la date, è importante, visto anche i risultati dello scorso anno con il Sampio. No, io ripeto, per me non ci sono partite amichevoli o partite di Coppa Italia, per me vanno affrontate tutto allo stesso modo. E da lì capisci che è il gruppo, se è il gruppo importante. Per me sono risposte importanti, i vari Mazzamuto, Napoli, Scired, D'Amico, qualcuno me ne scordo. Spero di recuperare il più presto possibile, soprattutto all'elio mentale, Giovanni Petrullo, perché per noi è un ragazzo che io ci tengo parecchio. In questo momento sta trovando poco spazio, perché abbiamo dovuto cambiare un pochettino il nostro modo di interpretare la partita. Però questo è un ragazzo che lo devo recuperare io. Adesso la palla canestro, c'è la seconda partita, la prima in trasferta per l'Aretusa, gioca in casa di una delle pretendenti alla promozione, va a patti. Quindi vediamo un po' questo servizio. Metabolizzata la battuta d'arresto di domenica scorsa contro Cefalù, la Cama Italia-Aretusa è pronta ad affrontare la prima trasferta stagionale in casa della squadra favorita per l'elettore finale, lo sport e cultura di patti. Domani, infatti, con l'inizio alle 18.30, alla Pala Serranò, probante banco di prova per Agosta e compagni che si misureranno contro un quintetto molto competitivo guidato da un tecnico esperto come Pippo Sidoti nelle fili al Cilacusane. Tutte a disposizione, censo fatta per Francesco Messina, fuori sede per impegni professionali. Ieri sera alla Pala Gradina la consueta seduta di rifinitura per la squadra di Gigi Bordieri abbiamo archivato la prestazione con Cefalù, spiega l'assistente coach Sandro Anastasi e adesso siamo pronti per la difficile gara di patti che rappresenta, visto il roster, la montagna più alta da scalare. Loro saranno l'esordio assoluto dopo la sosta forzata a causa del forfè di Gela e vorranno chiaramente iniziare nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico. Sono molto forti, dice ancora Anastasi, hanno un tecnico di provata esperienza ma non andremo battuti in partenza. Il gruppo è unito e convinto di poter ben figurare anche al cospetto di un avversario molto quotato. Bene, con questo servizio chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.